Ciao ragazzi, bentornati in un mio nuovissimo video, sono qui con Flavio e con Gianfranco che adesso ve lo presento, che è la prima volta che fa dei video con noi Dove è Gianfranco, cioè dall'inizio solo che non l'avevamo ancora conosciuto, è molto simpatico, visto che non ci ha picchiato ho deciso di dargli una nametag e l'ho chiuso qui dentro per non farlo sconfarire E c'è anche Gianfranchino Vabbè Gianfranchino ha il suo pollo, molto bello Questa è una casa, diciamo la base della mia casa, lui se ne è andato da un'altra parte a costruire la sua, ha detto sulla montagna Mentre invece in questo video costruiremo la mia casa e lui costruirà intanto la sua E poi a fine video andremo a vederla La mia casa e questa qui, ovviamente non è così, qua ho messo i materiali e adesso inizierei già a costruire Ok, vabbè, io l'ho fatta la mia casa sopra la montagna, la voglio fare È incredibile Ah, Travis si è dimenticato di salutare ovviamente come l'altra volta, lascia stare Beh, vabbè, cose tecniche, buongiorno a tutti Ma come c'è un modo per scendere molto velocemente secondo te? E buttarti dalla montagna Eh, che bello Eh, perché siccome il server è appunto di Andrea, io non posso entrare quando lì non c'è E quindi lui gioca soltanto ovviamente anche quando io non ci sono Quindi lui è più ricco rispetto a me Vabbè, quello sì Vabbè, sì Ecco, già qua ci sono i creeper, i villager zone, certi tutti di più Sono caduto anche nell'acqua, che bello No, ma a me non mi basta mai, non so come ho preso i calcoli Cioè non mi basta neanche per finire il secondo piano Eh, l'hai preso un po' con i piedi i calcoli Ma io l'avevo contato, sono sicuro Poi io il pavimento lo farei di quarzo Tu? Sì, ma sai come si fa a farlo di quarzo? Dove si trova il quarzo? Lo sai dov'è? Eh, no È nel nether, quindi mi sa che faccio il portale e poi vado nel nether No, c'è uno zombie che mi è salito sulla struttura, lì dove sto passando È incredibile Vuole vivere con te, a quanto sembra A me, sì Io le porte, direi che le faccio Ma qua sto i zombie Le faccio dopo, io le porte Lei mi ha buttato giù dall'altra casa No, io almeno qua non ho problemi perché in montagna non c'è nessun mob Oh ma basta poi sti zombie, madonna mia Che fai No, ho messo No, mamma mia Che fai io ho il stick Perché ho giocato a telefono però con il controller appunto E' rotto, quindi fa la visuale in alto, no? Sì Quindi da un fastidio pazzesco Perché sbaglia posizionare così i blocchi Mi ha rotto le palle sto zombie qua Me lo sento È un continuo a rompere in palla Oh, una mazzola Abbiamo fatto il Io intanto ho continuato un attimo la casa Dovevo andare a mangiare quindi sono tornato Flavio adesso puoi parlare Giustamente guardate ho fatto qua il tetto Della casa ve la faccio vedere un po' di lato Devo fare le finestre che le voglio fare Con delle sbarre di ferro Che mi piacciono Così sempre in prigione Però mi piacciono di più Cioè in questo caso con me ci sta meglio del vetro Nei commenti scrivete quale secondo voi è la casa migliore Sì però potresti tornare a dire Flavio Cioè io non vedo niente così Lo so però qua sopra il letto non ce l'ho Quindi Eh no ok mi attacca il ragno Questo non mi attacca il ragno Eh? No niente Era una mia avventura che sta muovendo in quel momento Eh le tue avventure Sì però allora Sì però dobbiamo dormire Io qua non sono Sì ora me lo porto Comunque non per dire ma Il portare delle hand la o quelle robe le Quelle robe lì Invece di farle Invece di farle vicino a casa tua La facciamo in un posto in mezzo a casa nostra Va bene No no tutto è casa mia vicino a casa mia È mio il mondo Metto io e tutto è riuscito a casa mia Eh ho capito Sei tu che ti sei spostato in giappocina Non è colpa mia Eh ho capito Oppure te ne fai te un altro di portale Prendendo Eh certo io non so manco come si fa un portale qui Ma non c'è tipo qua in su Minecraft Non c'è un qualcosa per volare Eh l'Elytra Era zero È solo quello Sì Almeno che non stai creativa Però sì se no Senza quello Sono caduto di nuovo Vabbè no perché voglio fare tipo Non so perché ho avuto questa idea molto strana Però voglio fare tipo un posto di atterraggio Pure di volo Non so perché Sì ma se non possiamo fare Cioè non c'è niente che ti ha volato Esatto No ho so perché ho fatto un elicopera Così adesso è caduto di nuovo Forse qualche modo per l'elicottero La potrei anche trovare Però non so se Eh mi sa che non conviene mettere l'acqua Prendendo l'occhio Vai vieni Ti piace qua Come ho fatto il portale Guarda un attimo Sì è molto bello Molto bello Thank you Però sempre vicino a casa Tu questa cosa non mi piace Va bene vieni Sì ma io poi volevo andare nel netto Vabbè dopo ci vai Un attimo vieni Sì no Non hai fatto praticamente niente Scusami Che bella Entra pure Ok Qua c'è un balcone Guarda qui che bello Sì va bene il balcone Ok Dove voglio Mamma mia sto zombie Mi piace a usciderlo Che tu hai la spada di diamante Se vuoi No è il tuo Hinton Beh Mamma mia non riesco a uccidere Ma tipo una Cioè Sono due balconi Eeeh Più o meno Cioè Però aspetta Mi dica Cosa vuoi fare Ho mezzo cuore Qualsiasi cosa muoio Ok 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 E' una necessità Sì Ma voglio fare Una specie di cosa Mi dica cosa vuoi Ma Mi dica cosa vuoi Ma Sì Quanto No ma Ha detto Dai che muoio Guarda non ti spingo Però vieni dai Io non ti devo mangiare Perché sono quasi morto Per colpa tua E ho fatto bene però No non hai fatto bene Vieni muoviti No non vengo più Guardami da solito No non ti spingo Vado a casa mia Ti aspetto lì Vieni Ho messo una torcia E anche te non si vede niente Guarda tu Vieni qua Allora Qua avevo l'idea Stavolta non mi spingo Qua avevo l'idea Di fare un orto Quindi Da qui Accedi a un orto Però rovini un po' la casa Secondo me Io lo farei sotto Tipo che vai sotto Poi scendi ancora Un po' E sotto c'è tipo Attaccata la montagna Perché se lo fai qua Diventa brutto Cioè c'è la casa E qua c'è una cosa E qua avevo intenzione Guarda vieni qua Avevo intenzione Di continuare a fare tipo Ai lati potevi passare Mentre qui continuavi E scendevi Ci sta? Non so se ci sta Allora Aspetta che riposta il punto qua Una scheletra Probabilmente Allora Metti un po' di corce Ok però guarda Guarda qua Guarda cosa si vede da qua Vai No 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 Non vada No no da qua Guarda da qui Guarda da qui Saltella Vedi che si vede Quell'altro bioma Si vede l'altro bioma E va bello Ehi bello l'altro bioma È rosso No è rosa Taglia Io ce la spalla in diamante Io ce l'ho in pietra Serie No Aia Aia Ti faccio danno Non rompere il paolo Aia E adesso ti sto facendo No adesso No 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 Dai mi Guarda ti griffo veramente No 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 Va bene Vedi mi di nuovo il letto Dov'era C'è il letto Dov'era Ok va bene Non ti sei perso No per fortuna no Io adesso scendo Vado nel nether È incredibile Vai nel nether Porco schifo No sono volato tantissimo Però Sì però la discesa è un po' Un po' brutta Da casa tua Cioè Devi fare 46 voli Poi era scendo E ora ci vado Dov'era ce l'ho trovata il bennetto Sì ma io non ti faccio danno Si è rotto pure il piccone Aia no Ah ma io non ho più l'armatura Ma me l'hai rotta E sei scarso Cosa devo dire Aia mi ha rotto pure l'armatura Beh io vado Nel nether Un attimo Volevo prendere un po' Ma il quarzo poi non mi hai dato Alla fine vabbè Ah si guarda Vieni qua Vabbè Lascia meno nella cassa Lì vicino Quella di dei minerali Tra l'altro Sì E noi siamo ricchissimi Di minerali Incredibile Aspetta Non so dove sono Aiuto Ora mi faccio tutte le armi Dove Tutte Ok Sono nel nether Sì nel nether Vabbè Ho fatto un incrocio Tra le nether Vabbè L'end e il nether Vabbè Nel nether Abbiamo capito Allora qua C'è del quarzo Molto Aia sono caduto Ma come scendiamo Cosa c'è Qua mi ha spinto qualcosa Non so che cos'era Mi ha spinto Mi ha buttato Ragazzi Ho fatto l'intro Giustamente Allora Spero che il video Vi sia piaciuto Se questo video Raggiunge i 20 like Faremo un prossimo Vabbè Buonanotte Mi sono impaffinato Addio Allora Rifacciamo da capo Tanto questo Ne la metto in velocità Ok 3 2 1 Adesso faccio un intro Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel like E iscrivetevi Nel prossimo video Esploderemo l'end Speriamo di trovare qualcosa Di interessante Magari anche già La fortezza Il nether Scusate Colpa mia Sono molto ignorante Ci vediamo al prossimo video E bella a tutti Ciao ragazzi Ho ucciso un gas Ciao ragazzi